Musica Cominciamo dal santo di oggi, vediamo subito il cartello con la grafica Il santo del giorno, i santi, i beati del giorno Sono i beati Maria Corsini e Luigi Beltrame Quattrocchi La prima coppia dei tempi moderni ad essere proclamata beata Vivendo il matrimonio in pienezza di amore coniugale Maria di antica famiglia fiorentina nasce nel 1884 Luigi morì nel 1951 mentre Maria nel 1965 Giovanni Paolo II in occasione della loro beatificazione disse Oggi abbiamo una singolare conferma che il cammino di santità Compiuto insieme come coppia è possibile È bello e straordinariamente fecondo Ed è fondamentale per il bene della famiglia, della chiesa e della società Il sole è sorto alle 6.25 e tramonterà 5 minuti prima delle 20 Il tempo Il tempo per oggi Avremo cielo sereno con temperature in lieve aumento Per domani sabato 27 ancora cielo sereno su tutta la costa Temperature ancora in lieve aumento Domenica 28 cielo sereno e temperature in lieve aumento Condizioni in tempo stabile anche per la prossima settimana Adesso subito il day after con il Corriere Adriatico La pagina di Pesaro, l'edizione di Pesaro Il day after il giorno dopo la grande scossa, il giorno del dolore Che ha sconvolto, la scossa che ha sconvolto il centro Italia Nelle Marche sono almeno 46 i morti Aumenta il numero dei dispersi Tra le macerie e l'orribile strage degli otto ragazzini Poi la storia di Ale, il parrucchiere morto in vacanza E lo psicologo che dice così si supera il trauma da sisma Tante sono le pagine che il Corriere Adriatico dedica alla tragedia Puntando ovviamente ai riflettori soprattutto sulle due località Arquata e Pescara del Tronto Colpite appunto la notte scorsa da una scossa di magnitudo 6.0 Poi da Pesaro, come un'esplosione ma siamo vivi Il racconto di marito e moglie che erano ospiti dell'hotel Roma Di Amatrice, completamente distrutto dal terremoto Feriti nel crollo, ora sono ricoverati a Torrette di Ancona Sopravvissuti dicono loro e non sappiamo in che modo È stato un miracolo Eravamo al secondo piano di questo albergo O albergo che è diventato simbolo di questa tragedia Ci siamo ritrovati in un'unica stanza senza pareti Chi stava sotto ha avuto la peggio E questo è il racconto di questa coppia pesarese La gara poi, la gara di solidarietà del cuore Che riempie gli hangar dove vengono sistemati i viveri Raccolti da tanta solidarietà Al vecchio Palace converge la raccolta di aiuti per i terremotati La mobilitazione nei quartieri L'assessore Belloni parla di priorità I prodotti alimentari per l'igiene I rifugiati sono pronti a partire In prima linea Caritas e farmacie Coinvolte pure le contrade del palio dei Braceri Troppa generosità invece a Fano Il Codma chiude in anticipo La protezione civile Sospende la raccolta Il deposito è già stipato di ogni genere E quindi come abbiamo già detto Hanno chiesto quelli di Fano Di fermarsi con le donazioni Di cose materiali non deperibili E di aspettare un attimo di vedere Anche perché è stato lo stesso Capo della protezione civile A dichiarare che insomma Non c'è bisogno di viveri Non c'è bisogno di coperte Non c'è bisogno di nulla Anzi hanno allestito dei campi Per 3-4 mila persone Quindi ce n'è in abbondanza Rispetto a quella che è l'esigenza attuale Mentre si può continuare a donare Per esempio i 2 euro Attraverso il numero solidale Della protezione civile Che è il 45 500 E questo lo si può fare benissimo Anche più volte al giorno Se uno vuol contribuire con il denaro Il sisma fa paura Disdette da parte dei turisti ad Urbino Le prenotazioni sono state annullate Il sindaco basta allarmismi e panico La città è sicura e fruibile Il Duomo però è inagibile Resterà chiuso per diverse settimane Le funzioni sono state Le funzioni leggiose Le messe sono state spostate a San Francesco Il giorno del sisma I visitatori erano in fila come sempre A Palazzo Ducale Decine le segnalazioni Per crepe e fessure Anche a Pesaro I vigili del fuoco invitano a fare attenzione Molti sono falsi allarmi E adesso Fano che punta sulla fiera Sono giorni dedicati alla fiera di San Bartolomeo Si punta sul Made in Italy Tante novità per le Massaie Si conclude oggi l'appuntamento Con le occasioni di fine estate Il movimento dei bianchi invocava misericordia Stasera a Ponte Metauro c'è il paglio delle contrade Verrà evocato un fatto storico Una conferenza in programma Questa sera alle 21.30 Nel santuario della Madonna di Ponte Metauro Uno spaventoso Un urto spaventoso Sulle strisce pedonali Sembrava un boato del sisma Un'anziana invece è stata travolta da un'auto a Marotta Ed è stata soccorsa dall'eliambulanza È molto grave Sono gravi le condizioni di questa donna Si chiama Mara Muzzi Di 81 anni Molto conosciuta in città Appunto a Marotta Lei si spostava per sicurezza Solamente in bicicletta L'altra pagina del Corriere Quella del Valle del Cesano La doccia fredda per il Comitato Marotta Unita Stiamo parlando dell'unificazione Quella che ha portato a Marotta di Fano Ad unirsi con Marotta di Mondolfo E quindi far parte del Comune di Mondolfo Adesso la causa passa alla consulta Quella che ha presentato il Comune di Fano Il Consiglio di Stato rinvia ai giudici costituzionali Il ricorso di Fano Contro il referendum e la legge regionale In allarme il Comitato Marotta Unita Dice il ritorno al passato Non conviene a nessuno Prevalga il buonsenso La raccolta di firme fu promossa nel 2010 Ma l'istanza al Comune è già sollecitata nel 2003 Questa è la pagina di Valle del Cesano Del Corriere Adriatico Direi che possiamo chiudere il Corriere Andiamo ad aprire il resto del Carlino Questa è la prima pagina Che gioia salvare Giorgia È la storia di un vigile del fuoco Quello che ha fatto il giro del mondo E che ha tenuto in braccio Ha salvato la piccola di 4 anni Che è stata estratta dalle macerie Il vigile si chiama Angelo Moroni Ed è di Pesaro Spero, dice lui adesso, che la bambina Dimentichi presto quello che ha vissuto E anche qui sul Corriere Sul resto del Carlino C'è il racconto di questa coppia pesarese Usciti vivi dall'hotel Roma Vera trappola di morte Poi grande solidarietà Ma non c'è bisogno di viveri E di vestiti Coppia pesarese all'hotel Roma Noi sopravvissuti al crollo Ci ha salvato un vero Angelo Erano nel luogo simbolo della tragedia Eravamo al secondo piano Dovevamo partire la mattina Un boato terribile Venuto giù tutto Siamo rimasti ore nel buio Poi fortunatamente la salvezza Guardate in che condizioni è L'hotel Roma ad Amatrice E poi sul Carlino di Fano Invece il racconto di questo bagnino Di salvataggio Si chiama Edmondo della Santa Che ha soccorso una bambina in acqua Una dodicenne in difficoltà Il bagnino si getta in acqua vestito Così ho salvato quella bambina Dice lui, trascinata via Inghiottita dall'onda Non ho avuto neppure il tempo Di togliermi la felpa Questo bagnino di salvataggio Ha 28 anni Con un'esperienza di 5 anni Come bagnino di salvataggio E soccorritore in mare Con la croce rossa italiana Anziano contromano Invece devo andare nell'orto Si è giustificato lui E' stato bloccato Dalla polizia municipale Intorno alle 9 Sotto gli occhi di alcuni curiosi Che hanno dato immediatamente l'allarme E evidentemente hanno fatto anche La fotografia Alla macchina Sia della polizia Sia dell'uomo Che aveva Evidentemente fretta Di andare a raccogliere i pomodori Vizi di forma E procedura annullata Il Consiglio di Stato Da ragione a Fano Il referendum Su Morotta Unita E' stato reso noto Il ricorso Il risponso Del ricorso I criteri sono sbagliati Gli atti regionali Sono in difetto Sono stati rimandati Dunque Alla Corte Costituzionale Un incidente sul lavoro Che ha causato La perdita Di una O meglio Un operaio Che si è schiacciato Una mano Nella macchina Sulla quale lavorava In via Tognolo A Bellocchi di Fano L'operaio si chiama Mauro Sora Da 50 anni Abita a Fano Lavora in una ditta Di Bellocchi Che è stato portato In ospedale E questa è la pagina Di Fano Del resto del Carlino Andiamo su quella Di Marotta Per l'annoso problema Del passaggio a livello Che per Massimiliano Lucchetti Di minoranza Consigliare unica E' un pericolo Dopo l'auto Che si è incastrata Che finirà Il progetto Adesso di chiusura Ora siamo in attesa Che il nuovo esecutivo Decida Il da farsi Mentre a Cartoceto Ultimo giorno Questa sera Di Music Square Che spegne dunque I riflettori Una rassegna musicale Di tre giorni Nella piazza principale Del paese di Lucrezia Piazza intitolata Giovanni Paolo II Ieri c'era Vasco Rossi O meglio La band Che E la tribute band Di Vasco Rossi Questa sera invece Tocca a Renato Zero Sulle strisce pedonali Investita Le 8 di ieri mattina Marotta Questa 81enne Che è stata trasferita All'ospedale di Torrette Grave Mara Briganti Che ha appunto 81 anni La rassegna stampa Di Fano TV Occhio giornali Si ferma qui Finisce qui Abbiamo saltato Chiaramente Tutte le pagine Dedicate Al terremoto Che troverete però Nell'edizione cartacea Acquistabile Nella vostra edicola Di fiducia Questa sera Il telegiornale Con Occhio alla notizia E vi ricordo Che abbiamo L'applicazione Occhio alla notizia Che potrete scaricare Gratuitamente Su Google Play E su Apple Store E poi c'è il nostro Sito internet Occhio alla notizia Punto it Grazie per averci seguito Vi ricordo Che per le vostre Segnalazioni Che per noi Sono molto importanti Segnalazioni che riguardano Incidenti Cose che non vanno Tutto quello che vi passa Per la testa Fatecelo sapere E se merita Di diventare una notizia La troverete In onda Alla sera Alle 20 e 30 Sul telegiornale 338 4968 250 Questo è il nostro Numero di riferimento Anche con Whatsapp Buona giornata a tutti Per la testa Ferraro Il resistor Il Un Il 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 speakers